Presto tutti i cosiddetti portatori di interesse, quindi cittadini, associazioni, imprenditori, sindacati, titolari di attività, potranno dire la loro sul progetto del tunnel e di riqualificazione del centro e magari proporre miglioramenti. Termoli è infatti la prima città della regione tra le poche in Italia a sperimentare un nuovo metodo di partecipazione democratica attraverso lo strumento del dibattito pubblico e a cui in questo specifico caso è stato dato il nome di Termoli 2020. Dal 1 settembre al 30 novembre tutti i termolesi potranno valutare il progetto, richiedere informazioni, proporre osservazioni tecniche e partecipare ai workshop che verranno organizzati su quattro tavoli tematici e cioè il progetto tecnico, l'impatto ambientale, archeologico e geologico, i dati economici, il project financing e infine la fase del cantiere. L'obiettivo del processo è quello di informare la cittadinanza su tutti gli aspetti del progetto. Eventuali modifiche da apportare verranno valutate insieme dall'amministrazione e dalla ditta di Francesco che realizzerà l'opera. Si tratta di un'opera che cambierà il volto della città. Noi siamo per il cambiamento, non siamo conservatori, ha spiegato il sindaco e siamo convinti che con il cambiamento migliorerà anche l'economia. È uno strumento di partecipazione democratica diretta da parte dei cittadini e delle associazioni di cittadini affinché possano dare un proprio contributo sia in senso modificativo o migliorativo di questo progetto di riqualificazione del centro storico che è uno dei progetti più importanti degli ultimi anni e come noi speriamo e auspichiamo cambierà il volto della nostra città e lo cambierà sicuramente in meglio. Nel processo di partecipazione è stato previsto anche un garante ossia una figura terza che avrà il compito di gestire tutte le fasi e di consentire uguale accesso alle informazioni a tutti coloro che lo richiederanno. A sperimentazione conclusa stilerà una relazione finale. Per l'incarico il Comune ha scelto Marco Olivetti, professore di diritto costituzionale all'Umsa di Roma. Il costo della sperimentazione è a carico della ditta De Francesco. Per iniziare a conoscere il progetto nei prossimi giorni verranno distribuite in città 15.000 brochure informative. Proponiamo un dibattito pubblico, sono rito che l'amministrazione e la ditta abbiano colto questa opportunità. Si tratta di una forma di consultazione pubblica dove i cittadini e i portatori di interessi legittimi possono osservare, giudicare e dare proposte rispetto a un progetto che è importante per la città perché la riqualifica e quindi diamo l'opportunità attraverso un metodo complesso che durerà 90 giorni a tutti questi soggetti di poter essere protagonisti attraverso tre direttrici particolari. Quella di richiedere informazioni, quella di proporre osservazioni tecniche e quella di partecipare attraverso tre workshop e quattro tavoli tematici che affronteranno nei dettagli tutto il progetto.